Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata. Ci occupiamo quest'oggi di melanoma, è una malattia che fa un po' paura soprattutto perché si teme di non accorgersi in tempo di questo un po' perfido nostro inquilino. Per parlarne abbiamo veramente un'autorità in materia perché con noi il professor Carlo Riccardo Rossi, che saluto e ringrazio, responsabile del centro melanomi dello Iove, deve dire un grande apripista in questo campo da decenni, veramente. Allora professore, fa veramente ancora tanto paura questo melanoma? Sì, il melanoma fa paura perché è il tumore più maligno della pelle, quello che può dare più facilmente le metastasi e portare a morte il paziente. Ecco, noi ne parliamo in pieno inverno, in realtà dopo un'estate di esposizione al sole. Quando è che comincia ad essere il momento di guardarsi, di controllarsi? Questa è la stagione migliore, la pelle più chiara? Beh, è meglio guardarsi quando la pelle è chiara, quando non è alterata appunto dall'esposizione al sole e dall'abbronzatura. Quindi questo è un buon periodo. Oppure magari da qualche danno dovuto proprio all'eccesso di abbronzatura. Sì, comunque un'abbronzatura sconsiderata porta comunque a dei danni. Come dicevo, sì, guardarsi è bene, guardarsi è bene però durante tutto l'anno perché il melanoma tende a cambiare consistentemente in 3-6 mesi. Quindi se uno si guarda la pelle cercando di ricordarsi com'è oggi, domani e dopodomani e fa un po' di esercizio mnemonico, si cerca di ricordare come sono i propri nei, vede nel giro di 3-4 mesi se qualcosa cambia, anche se non è un dermatologo. E in quel caso è utile che chieda il consiglio prima al proprio medico e poi eventualmente a uno specialista. E questo è anche un po' il senso di questa puntata perché in questo caso, più che in altri casi in cui magari l'attenzione della persona conta poco, penso a cosa potrebbe essere un problema al fegato, allo stomaco, in zone che sono lontane dai nostri occhi, in questo caso la collaborazione del paziente è fondamentale, sia nel caso di un primo episodio, sia poi nel caso di un controllo rutinario durante la vita. Sì, fortunatamente il 70% dei melanomi viene diagnosticato in fase abbastanza precoce oggi, tanto è vero che la sopravvivenza è intorno all'80-85% dei pazienti, il che significa che sono stati curati in tempo. Questo vuol dire però che un 20% comunque ha dei problemi, ha dei problemi legati al fatto che arrivano tardi. Allora su quel 20% bisognerebbe aumentare l'attenzione, cercare di isolare quei gruppi a rischio, che sono soprattutto i maschi sopra i 50 anni, che si guardano poco la pelle, che non se la guardano mai direi, non se la guardano poco, e abituarli appunto a quell'esercizio che dicevo prima. Qualsiasi zona del corpo può essere in realtà il luogo dove nasce questo neo? Io mi ricordo che una volta che lei è venuto qui l'ha definito un brutto natroccolo. Sì, il brutto natroccolo è uno dei modi per definire dal punto di vista popolare questa malattia, nel senso che se uno ha tanti nei e sono abbastanza omogenei come caratteristiche, nel senso si assomigliano uno all'altro, ma ce n'è uno che invece non assomiglia agli altri, quindi il brutto natroccolo, in quel caso è bene che magari lo faccia vedere anche il proprio medico. Come potremmo descriverlo questo brutto natroccolo? È opaco, ha una forma strana? C'è una regoletta che si chiama ABCDE e dovrebbe servire appunto a farci capire se un neo è atipico oppure no. A sta come assimetria, cioè se noi idealmente tagliamo in due il neo, vediamo che le due metà non corrispondono. B sta come bordi, i bordi sono irregolari, frastagliati. Ci sta come colore, il colore è variegato, il melanoma è un colore che va dal bianco al nero, al rosso al blu, al grigio, quindi è un insieme di colori di solito. D sono le dimensioni, cioè se un neo è sotto i 5 mm, è inutile che lo prendiamo in considerazione, perché non capiamo di che cosa si tratta, neanche il dermatologo spesso riesce a capire di che cosa si tratta. Ma la più importante di questa lettera è proprio la E. Come dicevo prima, il melanoma tende ad evolvere velocemente, quindi in 3-6 mesi cambia. Per cui se vediamo qualcosa che cambia, e lo avevamo notato prima, oppure è comparso nuovamente sulla nostra pelle, allora a quel punto è bene che la facciamo vedere. Cambia, magari anche se sono nei che sono lì da tutta la vita, possono cambiare improvvisamente anche quelli che consideriamo ormai parte di noi stessi? Allora, il 30% dei melanomi nasce su un neo preesistente, il 70% nasce sulla pelle sana, quindi è bene guardarsi i nei che si avevano, però è bene anche guardarsi la pelle comunque, perché se c'è qualcosa di nuovo, soprattutto se compare dopo i 40 anni questo qualcosa di nuovo, è bene monitorare per vedere che ha una velocità di crescita tale da incuriosirci e quindi farci chiedere consiglio. Lei parlava, sono passate delle diapositive che lei ci ha fornito e che poi sono anche le diapositive che utilizza l'associazione Piccoli Punti, Onlus, per fare prevenzione, saranno qui tra noi tra un pochino per raccontarci quello che stanno facendo in questo momento, in cui si vedevano questi specchi, che sono grandi alleati, si dice che le donne si specchiano troppo, lei ha detto che i maschi si specchiano troppo poco però, è lo specchio grande alleato. Sì, beh, quando uno deve guardarsi, deve guardarsi in una stanza ben illuminata, se è da solo ovviamente con l'aiuto di specchi, perché dietro è difficile guardarsi, se invece ha la fortuna di avere un familiare che lo può aiutare, magari in due possono fare meglio. È importante guardarsi tutto il corpo, anche le pieghe interdigitali o le pieghe glutee, perché il melanoma nasce sulla pelle anche dove non batte il sole. Purtroppo succede, il sole è correlato all'insorgenza di melanoma, ma non è l'unica causa di melanoma, molte cause probabilmente sono ancora sconosciute. Stiamo pensando che esistono app per qualsiasi cosa, in questo mondo in cui nel telefonino abbiamo qualsiasi tipo di strumento, chissà se ne esiste una proprio per controllare e tenere sotto controllo il proprio corpo. Esistono più di un'applicazione deputata a questo tipo di funzione, non è facile poi usarle queste applicazioni, perché è difficile fotografarsi al posto giusto, nel momento giusto e farne l'uso appropriato. Ne stiamo sperimentando una anche noi allo Iov di questo tipo, proprio con una start-up che è venuta a proporci la validazione di questo tipo di applicazione da telefono. Nelle vostre mani probabilmente l'utilizzo è di tutt'altro tipo, ecco. No, io credo che la migliore utilizzazione di questo sia quando al paziente si dà il consiglio tu torna fra 12 mesi, ma nel frattempo guardati ogni quattro. Allora a quel punto queste applicazioni possono servire al paziente appunto per capire qualcosa, qualcosa meglio, se sulla pelle c'è un neo che cambia oppure che è comparso nuovamente. Sai che in queste settimane c'è stata questa bellissima storia a proposito di nei, di un nuotatore che ha partecipato ai mondiali sostanzialmente, e uno spettatore guardandolo in televisione ha detto ma guarda quel neo di quel nuotatore è cresciuto e così si è salvato. Io adesso non so l'esito istologico di quella biopsia, dell'asportazione di quel neo, ecco vorrei approfittare anche di questo per dire che non è pericoloso asportare i nei, i nei strani vanno tolti, una volta si diceva attenzione perché asportare il neo provoca poi la morte del paziente, non è così. Ah, addirittura. Si arrivava ad asportare il neo. troppo tardi, quindi non si faceva la diagnosi precoce, per cui il paziente che aveva melanoma poi moriva del melanoma. Questo è il motivo per cui esiste ancora questo pregiudizio. Nel caso, in questione, quello di questo nuotatore, diciamo che la fortuna ha voluto che qualcuno si accorgesse, non si sa perché prima nessuno se ne sia accorto, comunque qualcuno si accorgesse che uno era il brutto natrocolo. In effetti, se si guarda la foto pubblicata sui giornali, si vede che quel neo è nettamente diverso agli altri che si vedono nella foto. Questo significa quindi che l'occhio ha colpito qualcuno, che l'aspetto di questo neo ha colpito l'occhio di qualcuno e questo qualcuno ha fatto un piacere a quel signore. Assolutamente. Poi un'altra bella storia che c'è stata in queste settimane è stata quella di quel ragazzo che ha una specie di corazza addosso e che ha scritto un libro. Il neo può diventare così grande? Ci può essere una variazione della pelle così da investire grandi parti del corpo? Questa era una malattia rara quella di questo ragazzo? Certamente sono malattie rare, sono nevi congeniti giganti, cosiddetti. Sono detti giganti addirittura da quando sono maggiori a 6 cm di diametro, quindi non parliamo di questi nei estesissimi, ma ci sono soggetti che hanno dei nei alla nascita veramente coprenti e in questo caso la problematica è importante, però per fortuna sono molto pochi questi soggetti e si dibatte il fatto se sia utile o meno asportarli in tenerissima età o se seguirli nel tempo. Ma che cos'è un neo, anche quando non è maligno? In sé che cos'è? Il neo è la proliferazione, la duplicazione smodata delle cellule che producono la melanina, che sono melanociti. Quando queste cellule si riproducono in maniera senza controllo, senza controllo fino a un certo punto, perché se sono tumori benigni, nei, a un certo punto smettono di replicarsi queste cellule. Se invece sono melanomi, come si vede in questo caso, vedete questa slide con... Ecco, se sono melanomi invece continuano a crescere, quindi la differenza fra neo e melanoma è questa. Non si ferma mai, quindi non è che parte da un punto e arrivo l'altro, continua a crescere. Continua a crescere. Mentre il neo si ferma a un certo punto, può crescere, cresce lentamente, ma a un certo punto si ferma e può anche regredire. Il melanoma invece tende a crescere e non si ferma. Vedete cosa può succedere in sei mesi. Quello che sembrava un neo normale, quindi non un brutto anatrocolo, sulla sinistra, è diventato il brutto anatrocolo, poi sulla destra, nel giro di sei mesi. Prevenire, quindi, non è una parola così priva di significato, è una cosa che salva la vita. C'è comunque una percentuale di persone che ancora muore di melanoma, perché comunque è un tumore molto pericoloso. Sì, questa percentuale si aggira intorno al 15%, come dicevo prima, attualmente. Anche se oggi abbiamo la fortuna della comparsa di nuovi farmaci, in questi ultimi anni, che danno delle speranze di sopravvivenza migliori alle persone che hanno le metastasi da melanoma. Mi riferisco in particolare all'immunoterapia o alla cosiddetta terapia bersaglio, quella che va a colpire una delle cascate molecolari che porta all'insorgenza del tumore. Io sono rimasta molto colpita l'altra volta che lei è venuta a trovarci, ci ha spiegato benissimo il perché questo piccolo neo alla fine diventa così pericoloso per il nostro organismo. Come riesce a entrare dentro di noi? Allora, il neo nasce generalmente sugli strati più superficiali della pelle, sull'epidermide, e poi tende ad approfondirsi sempre negli strati della pelle. Man mano che si approfondisce, incontra i piccoli vasi della pelle, i vasi linfatici e i vasi sanguigni microscopici, ma le cellule sono piccolissime e hanno la possibilità, appunto, se sono cellule maligne, di entrare in questi vasi e poi dare le metastasi. E quindi si depositano in qualsiasi parte del corpo, praticamente? E quindi possono depositarsi ovunque. Voi, quando trovate un paziente, appunto, quando c'è la possibilità di asportare il neo per tempo, è ovvio che si interviene con piccoli interventi, alla fine che non sono molto difficoltosi da sopportare per nessuno. Invece, quando questa malattia evolve, come riuscite a intervenire? Che cosa riuscite a mettere in campo? Beh, il primo intervento, diciamo, di una certa complessità, anche se è un piccolo intervento, però è sofisticato, è la biopsia del linfonodo sentinella. Nel senso che nei pazienti che hanno un rischio del 10-15% di avere questo linfonodo contaminato dalle metastasi, oltre a fare l'asportazione del primitivo, quindi della cicatrice che resta dopo la biopsia, si va, appunto, a cercare il linfonodo che potrebbe essere filtro di metastasi e quindi contaminato. Quindi vi trasformate in investigatori appena scatta la soglia di allarme. Ecco, questo è il primo passo. Poi, ovviamente, se questo linfonodo è positivo, il paziente va sottoposto eventualmente ad altre cure, come per esempio l'interferone o altre cure adiuvanti. In alcuni casi si può ricorrere all'asportazione di tutti i linfonodi di quella regione, quando il paziente è particolarmente a rischio di averne altri contaminati. Anche il linfonodo procede territorialmente, anche il melanoma procede territorialmente, prima di tutto? Sì, diciamo che di solito il primo filtro è il linfonodo, ma non è una regola. Il melanoma può anche arrivare, come dicevo prima, attraverso i vasi sanguigni e non i linfatici, anche in altri organi. Certo che se c'è una metastasi nel linfonodo sentinella, il rischio che il melanoma sia arrivato o possa arrivare in altri organi è più elevato. Chi è arrivato in tempo e ha tolto un melanoma, che poi dall'istologico è risultato magari essere pericoloso, quindi un tumore maligno sostanzialmente, che cosa deve fare? Cioè è sottoposto a un percorso diverso, ovviamente. E non sono poche le persone poi che riescono ad arrivare a toglierlo, no? Ma intanto non deve disperarsi e non deve andare su internet, sono due consigli che do subito alla popolazione. Che valgono sempre questi, perché è terrorizzante. Perché melanoma vuol dire tante cose. La parola melanoma di per sé significa, nell'85% dei casi, un tumore che il curato poi guarisce. Quindi non è che sia una sentenza di morte la parola melanoma. Soprattutto appunto se il melanoma è molto sottile. È chiaro che se il melanoma è più a rischio, ovviamente deve affidarsi a un centro specialistico che si occupa di questa patologia, come noi siamo allo IOV. In questo caso metteremo in essere tutte quelle pratiche necessarie per cercare di curarlo al meglio. Sento, non abbiamo parlato di età. Lei ha parlato prima dei pazienti che hanno maschi di 50 anni, che diciamo che sono più esposti, proprio perché non si controllano. E invece nella tenera età esistono forme di questo tipo? Fin da quando è che bisogna cominciare a stare attenti? Il melanoma nel bambino è molto raro. Ma insomma, per fortuna. Ogni due milioni di nati, per dire. Quindi diciamo che nel Veneto ce ne sono pochissime nel corso dei dieci anni, per dire. Ecco, però è un tumore che può insorgere nel bambino, non è zero il rischio del bambino. È un rischio che non va preso in considerazione in termini di prevenzione, cioè prevenzione secondaria, cioè di diagnosi precoce, perché se è rarissimo è la casualità quella di trovarne poi uno. È chiaro che invece dal punto di vista della diagnosi precoce, quindi della autovalutazione prima e dell'eventuale richiesta di consiglio al medico poi, sono più esposti al rischio i soggetti che hanno almeno 20 anni, dai 18-20 anni in su. Allora a quel punto, per fare un po' l'identikit di quello che è più esposto al rischio, è quel soggetto che per esempio ha già avuto melanoma, per esempio, oppure ha avuto dei parenti di primo o secondo grado che hanno avuto il melanoma. Un soggetto che ha la pelle molto chiara, che si protegge poco dalla radiazione solare, che ha le lentigini, che ha gli occhi azzurri, che ha i capelli rossi, ecco questo è un soggetto più a rischio. Un altro fattore di rischio è la massa nevica, cioè aver tanti nei, non tanto delle macchie solari, quanto dei nei, significa che si è più a rischio di melanoma. Soprattutto se questi nei, come dicevo, sono al di sopra dei 5 mm, quindi sono nei che si vedono e che si possono monitorare. Ecco, tutte queste informazioni dovrebbero fare in modo che sia la popolazione, sia i medici di base potessero identificare o un soggetto o una serie di soggetti a rischio sui quali concentrare l'attenzione. Ecco, le nominate lei le macchie che preoccupano tante persone, perché compaiono con l'età e non si capisce bene che cosa sono, no? Sono sempre segni del sole o ce ne sono anche preoccupanti? Le più comuni sono esito di scotature prese durante la vita. Altrettanto comuni, direi soprattutto con l'avanzare dell'età, è la comparsa delle cosiddette cheratosi seborroiche, che non sono poi dei nei, ma sono delle macchie più scure che conseguono il fatto che la pelle in qualche punto secerne una secrezione grassa che poi stando all'aria si ossida e diventa più scura. E sono quelle macchie che poi si trasformano in croste che possono anche sanguinare e appunto imitare il melanoma. Imitare il melanoma ma non essere della stessa famiglia, sostanzialmente. Ma non essere della stessa famiglia. Quindi non diventano mai dei tumori maligni. No. La cheratosi seborroica, quindi queste macchie scure che diventano anche brutte e qualche volta si infettano, non diventano mai melanoma. Beh, insomma, è rassicurante, perché questa è una cosa che è abbastanza diffusa e generalizzata. Quindi l'unica forma del melanoma è il neo. Diciamo che il melanoma, come dicevo prima, può avere colori diversi e può anche insorgere su cute sana. Quindi diciamo che vedere qualcosa che cambia è la cosa più importante. Che poi questa abbia le caratteristiche di un neo o meno non è la regola. Diciamo, è più probabile che abbia le caratteristiche di un neo, ma non è la regola assoluta. Senta, io prima le ho chiesto ai bambini, mi sono rimasti 40 secondi. Voglio chiederle una cosa. Invece c'è un'età in cui si può dire ah, adesso sono in pace e non ce l'avrò più? No, purtroppo non abbiamo questa possibilità. Non c'è questa possibilità. No. A proposito di età, vorrei ricordare che il melanoma incide soprattutto nell'età che va al di sotto dei 50 anni, va bene, dove al momento è il primo tumore nell'uomo e il secondo nella donna. Quindi bisogna considerare sì che l'uomo al di sopra dei 50 anni generalmente arriva con il melanoma poco curabile, però la maggior fascia a rischio è proprio quella fascia a rischio che è in età lavorativa, che è relativamente giovane e che quindi dovrebbe valersi proprio della diagnosi precoce. Salutando il professore, introduco anche la seconda parte di questa puntata che continua a parlare di questo perché saremo con Marianna Martinoni dell'associazione Piccoli Punti e con lei parleremo anche di prevenzione, di sole, di quello che bisogna fare con i bambini, di quanto bisogna proteggere la pelle. Quindi se volete continuare a seguirci tratteremo questo tema. Io ringrazio ancora tantissimo il professor Carlo Riccardo Rossi di essere stato con noi questa mattina e assolutamente spero di rivederla molto presto. Grazie e ci vediamo tra pochi istanti. Grazie per l'invito. Grazie. Grazie.